Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primo staff series del canale Visto che questa serie sta spopolando in tutta Italia ho deciso di portarla pure io sul server di PowerMind Che non è un server con tantissimi player però è comunque un server che mi è piaciuto particolarmente Quindi ho deciso di fare questa serie su questo server Se questa serie vi piace vi invito subito a lasciare un like e magari di mettere anche un bel commento E nulla ci vediamo nelle clip, bella Ok ragazzi mi segnalano un certo Naruto, adesso l'ho perso di vista Eccolo qui, ok l'ho trovato Oddio non saprei C'è tirate un po' strane Vabbè direi di richiedergli controllo Quindi controllo hack Perché non so scrivere? Vabbè comunque Naruto controllo hack Dammi endesk Loggare Ok Verrai Bannato Ok Vediamo se accetta Va bene Naruto Secondo Publichiamo Ok vediamo Tara passa a richiamarlo Bannalo E basta non ce la faccio più Vabbè Tanto Bannaruto Due day No non due giorni Tre Perché mi sbaglio Vabbè Tembannaruto Tre Eh Rifiuto Controllo Hack Ok Ci vediamo alla prossima clip Ok ragazzi Ok ragazzi c'è questo tizio 3000 Che secondo me citta Adesso l'ho perso un attimo di vista Però Ah eccolo qui Adesso lo guardiamo un secondo E dopo gli chiediamo controllo Se Vabbè per sicurezza gli facciamo controllo Allora quindi Controllo Hack Dammi endesk Loggare Ok Vediamo se accetta No eh Ma figurate se accetta qualcuno Il controllo Va bene Allora Secondo Richiamo Tizio No niente Proprio se ne frega Il controllo Vabbè Ultimo Richiamo Tizio 3000 Vediamo Tembannaruto Rifiuto Controllo Sì però Mi dimentico sempre Di mettere La durata Non so perché Ok È stato bannato A posto Ci vediamo Nella prossima clip Quindi signori Questo era il primo Stuff series Io spero che vi sia piaciuto So che non c'è stato Nemmeno un controllo Però Come avete visto Nessuno L'accettava E Niente Spero che nel secondo Episodio Qualcuno L'accetti Quindi Io spero che questo Episodio Sia piaciuto Se così è stato Lasciato un like Mettete un bel commento E nulla Al prossimo Episodio Bella Ciao 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 Ciao